Musica Io sono sportivo, in un intervista mi ha detto che da giovane ho iniziato anche come cacciatore insomma, almeno questa è la zona, la trovo c'è una parte della società che si ha raccontato proprio lì lo inizia a suonare accontato come questo anche sull'età, perché è più che bene e da sportivi questo è l'Oscar che noi riserviamo ai campioni che hanno fatto qualcosa di importante e significativo i nostri sportivi libri, quest'anno è l'anno della Limpia, il 2012 abbiamo una battuglia già di 12-14 ragazzi che ci rappresenteranno il 25 maggio dal 25 al 27, ci saranno i giornali di festa nel mio campo il 25 sera da là per essere uno sport preso possibile proprio dagli amici che ci davano in apertura e allora io vorrei questo simbolo l'Oscar dello sportività credo l'ho dato a... l'abbiamo dato a Evo Milito a D'Antonio Cassandre adesso faccio due nomi a caso magari ha dato dei forecast ma io credo che più forecast ma io credo che più forecast ma io credo che più forecast è una felicità per noi dobbiamo ringraziare la pubblica amministrazione questo pubblico incredibile che ci ha permesso di fare una cosa veramente bella con qualcosa di... con una risposta sociale formidabile speriamo di poterne fare ancora in un posto così bello oltre a cercare di fare prodotti buoni bisogna cercare di dare qualche contributo forte alla società e Mission for a Better Life è la nostra missione scienza per una vita migliore musica, sport, cultura aiutano a migliorare la vita e questa è un po' la nostra filosofia e lui è una realtà è un emergente sarà uno dei più grandi violinisti internazionali e lo Stradivari è un nome e una garanzia musica 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 sono veramente contento di essere qui a Genova con un violino prestigiosissimo si tratta di uno Stradivari del 1726 è una tappa molto significativa del progetto uno Stradivari per la gente che mi vede interprete dappertutto con questi meravigliosi violini musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.